Grazie a tutti. Attraverso il pronto soccorso ma anche all'interno delle unità operative o con accesso dagli ambulatori. Nel 2011 il servizio sociosanitario dell'istituto in collaborazione con le unità operative ed il pronto soccorso si è occupata, ha visto circa 150 casi di minori in situazioni di fragilità, di nuclei in difficoltà. Di questi 150 casi 60 sono stati intercettati per primi dal nostro istituto e sono stati segnalati quindi poi all'autorità giudiziaria. I restanti erano già in qualche modo agganciati al circuito dei servizi sociali che ne avevano magari il monitoraggio o addirittura l'affidamento. Il 60% di queste situazioni ha avuto come primo accesso il pronto soccorso. Nelle restanti situazioni invece le situazioni sono state identificate all'interno delle unità operative o come dicevo prima hanno fatto degli accessi in ambulatorio. Ora, sicuramente è molto difficile quello di riuscire a condensare in poche parole in breve tempo tutta la tipologia di accesso che ha il nostro istituto. ma diciamo che cercando di sintetizzare e sicuramente essendo esaustivi di tutta quella che è la variabilità collegata ovviamente alla variabilità umana possiamo identificare tre tipologie principali di minori che accedono al pronto soccorso. La prima è quella relativa a minori accompagnati o condotti dalla polizia o su indicazione dell'autorità giudiziaria. Questi normalmente sono casi di bambini in stato di abbandono o allontanati con provvedimenti di urgenza dalla famiglia di origine che quindi fanno un accesso da noi sia per avere molte volte un inquadramento proprio di tipo sicuramente clinico. e comunque sono in attesa di provvedimenti del tribunale e quindi poi dell'implementazione da parte del servizio sociale di un progetto di reinserimento nella casa nel nucleo originario o di un inserimento in comunità o in altra famiglia. La seconda, ecco, di questa tipologia fanno parte anche tutte quelle situazioni che ci vengono segnalate dai servizi sociali che quindi sono già in carico ai servizi sociali o monitorate dai servizi sociali e per i quali i servizi sociali hanno la necessità di avere un inquadramento di tipo clinico che magari non è stato fatto prima o comunque sul quale i genitori non riescono ad essere precisi. Quindi in questo caso ovviamente qui c'è una preventiva telefonata del servizio sociale e quindi una presa in carico dal punto di vista clinico o attraverso il pronto soccorso oppure attraverso un ambulatorio dedicato proprio per queste situazioni. La seconda tipologia è quella collegata agli accessi per traumatismi ma anche per patologie che possono essere, diciamo, di dubbia origine psicogena. È chiaro che ci sono degli eventi, degli elementi che presi singolarmente possono, diciamo, non voler dire niente. No, il bambino che arriva perché sta imparando a camminare e ha preso la zuccata al trauma cranico e dice e non dice. Su quel bambino però se la settimana prima c'è stato un accesso perché magari involontariamente la mamma lo ha scontrato mentre scolava la pasta e quindi il bambino si è bruciato, se il mese prima erroneamente ha preso la pastiglietta per la pressione del nonno, chiaramente la lettura di quell'evento ha una valenza e un valore differente. Quindi in questi casi è importante per noi andare a rivedere, soprattutto questo è un aspetto che portano avanti i medici del pronto soccorso, anche se faticosamente, data anche la mola di lavoro, è quello di andare a rivedere tutti gli accessi precedenti, proprio per dare una lettura più integrata. La terza tipologia che io direi ha sensazione, almeno io la sto percependo, sempre più in aumento è quella di minori che sono coinvolti in litigi all'interno delle separazioni conflittuali o dei divorzi conflittuali dei due genitori. Allora, sempre più spesso questi bambini vengono portati in pronto soccorso da uno dei due genitori o dai parenti di uno dei due genitori che accusa l'altro di abuso o maltrattamento, chiaramente. Allora, in questo caso, a parte tutta la parte importantissima clinica volta a trovare, a ricercare quegli elementi che poi possono essere utili e necessari a stabilire se effettivamente c'è stato abuso o maltrattamento, è chiaro che noi ci troviamo sempre, anche se così non dovesse esserci, cioè anche se non ci dovesse essere stato nulla su quel bambino, ci troviamo di fronte a un bambino in grosse difficoltà e a rischio. Quindi, per questa tipologia è importantissimo anche un'anamnesi di tipo sociale e di tipo psicologico. Allora, il comune denominatore, poi stringo perché non voglio prendere tempo, allora, il comune denominatore comunque del lavoro che noi tentiamo di svolgere, che svolgiamo quotidianamente con tutte queste tre tipologie, è quello di collegarci, di lavorare intanto in multidisciplinarietà all'interno dell'istituto, ma di collegarci anche all'esterno. Ognuno di noi, per la propria professione, per l'ente e per il mandato dell'ente all'interno del quale lavora, conosce un pezzetto di quella storia, di quella famiglia, di quel bambino. Non possiamo fare nulla se non ci colleghiamo agli altri, se non sviluppiamo una sinergia. Quindi questo noi ormai l'abbiamo capito sul campo. Da questa è nata però la necessità di uscire dai casi singoli, specifici, di costruire dei percorsi e quindi di partecipare ai gruppi di cui noi continuiamo a ringraziare il comune di Genova, per cui partecipiamo al gruppo Amaltea, ai sottotavoli, ai tavoli che da questo si sono sviluppati. E' importante anche aprirci alle altre realtà del territorio e quindi a dicembre, su spinta del pronto soccorso, c'è stato un seminario che ha visto coinvolti i pronto soccorsi di ospedali del Piemonte e della Lombardia e i servizi territoriali. Altra esigenza che è nata proprio dal campo è stata quella di costituire un gruppo a questo punto all'interno dell'istituto, quindi un gruppo formato da medici, da infermieri, da psicologi, da assistenti sociali, dedicato almeno in parte nelle sue ore lavorative a questo lavoro e che si chiama La Casa Sull'Albero, quindi adesso abbiamo anche un nome. Ecco, chiudo dicendo solo che siamo in una situazione di work in progress e io personalmente, ma credo che anche gli altri componenti del gruppo non mi smentiscono, penso che questa situazione di continuo movimento e spinta in avanti andrà oltre, ecco, non arriveremo mai. Grazie. Ho cercato di sintetizzare molto rapidamente alcuni dati che fanno riferimento ai pazienti che giungono in osservazione al nostro pronto soccorso. Piccola precisazione magari per chi è non genovese, la struttura dell'emergenza del San Martino è un data di secondo livello però per soggetti adulti, quindi abbiamo una popolazione che va dai 14 anni in su e quindi la popolazione pediatrica afferisce direttamente all'ospedale Gaslini. Quindi questi dati fanno riferimento unicamente a soggetti che hanno un'età tra i 14 e i 18 anni che abbiamo ricostruito come dati e come elementi a nostra disposizione relativamente a elementi di percosse, maltrattamenti e anche violenza. Altra puntualizzazione relativa, introduco direttamente alcuni di questi dati che fanno riferimento a soggetti che sono stati vittimi di percosse, nessuno di quei soggetti poi ha avuto ricovero ospedaliero, quindi la gravità da questo punto di vista evidentemente non era stata considerata maggiore. La maggior parte di questi ragazzi sono stati poi trattenuti in osservazione breve e intensiva, in opi. Uno di questi casi è stato un tentativo di stupro con successivo ricovero in ginecologia. In tre casi la violenza era stata esercitata a scuola o nelle vicinanze, quindi questo tipo di maltrattamento di percosse di violenza era correlato a fenomeni di bullismo o di violenza tra ragazzi con, in un caso anche, siamo giunti alla volsione dentale. In altri casi vi era violenza nell'ambito domestico, quindi parliamo di soggetti etilisti o di adulti verso minori, in un caso minaccia con un'arma da taglio. Nella maggioranza dei casi vi è stata autopresentazione. Nella successiva diapositiva sono riassunti i dati degli ultimi anni, abbiamo venuto prima quella del 2010, 11 e 12 e poi avremo quella degli anni precedenti. I numeri non sono elevatissimi, indubbiamente abbiamo tutti la percezione del fenomeno della punta dell'iceberg, quindi di quanto in realtà quello che noi riusciamo a percepire, a riscontrare e a correllare a fenomeni di maltrattamento, di percorsi, sia nettamente inferiore a quanto poi questo accada nella realtà dei fatti. Quindi lo sforzo, che indubbiamente è stato più volte ribadito, è quello di avere un livello di attenzione e di analisi di problematiche cliniche che dietro hanno fenomeni di violenza. La successiva, quella invece fa riferimento alla distribuzione in termini di provenienza dei soggetti da paesi che vediamo fanno parte sia della comunità europea sia paesi extraeuropei e come si può evincere anche la presenza di soggetti di comunità sudamericane è comunque presente ed è un dato che poi vedremo anche nelle successivi dati degli anni che sono rappresentati. Quindi anche nel 2009 possiamo andare avanti. Quindi anche qua soggetti dal Sud America, dall'Albania, la successiva, che non è meramente illustrativa di questo dato, la successiva ancora e la successiva fino ad arrivare al 2012. Mi fermerei un attimo su quello del 2012, che è stato un anno che ha avuto una numerosità inferiore agli anni precedenti. Quanto questo dato sia effettivamente reale o sia un dato casuale, non voglio rilamenti per poterlo riportare, sottolino dal punto di vista organizzativo un aspetto molto importante perché la risposta organizzativa che in termini di attenzione come pronto soccorso possiamo riservare a questi ragazzi è legata la presenza di un presidio socioassistenziale che abbiamo, che è attivo tutti i giorni, mattina o pomeriggio nei giorni feriali, la mattina soltanto nei giorni festivi, che comunque rappresenta un elemento importante di presa in carico perché dal momento clinico, dal momento di valutazione medico-infermieristica si passa poi a un momento di presa in carico socioassistenziale che costituisce l'anello di congiunzione col territorio e con tutto quello che può essere una rete di presidi territoriali che indubbiamente permettono anche di attivare dei percorsi di presa in carico di questi ragazzi. Aggiungo un ultimo dato che mi piacerebbe sottolineare che fa riferimento ad un protocollo che è stato condiviso con tutte le strutture dell'emergenza sull'intervento nella violenza di genere femminile. In questo protocollo è stato condiviso anche e soprattutto quello che è una modalità di gestione di aspetti che sono tutt'altro che rilevanti in termini di raccolta di elementi che poi possono essere fruiti dal punto di vista della Polizia Giudiziaria e della Magistratura per quanto riguarda elementi e acquisizione di prove in termini di responsabilità penale e di identificazione di elementi che consentono anche di correlare l'avvenuto elemento di violenza e maltrattamento con responsabilità ascrivibili in maniera certa a soggetti che se ne sono resi colpevoli. E questo aspetto che abbiamo, ripeto, condiviso tra le strutture dell'emergenza per quanto riguarda l'aspetto della violenza di genere femminile credo che sia del tutto fruibile e estrapolabile anche per questa condizione anche perché l'affrontare le tematiche di violenza e maltrattamento credo debba essere visto con una lettura almeno per quanto riguarda le strutture dell'emergenza univoca e tale quindi da avere lo stesso livello di attenzione e di anche preparazione a forma culturale nel gestire tutti gli aspetti che questa tematica comporta. Grazie per l'attenzione. Ringrazio il progetto Arianna e in particolare anche la dottoressa Serra per l'invito, per poter presentare il lavoro che stiamo facendo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Io sono Roccati, psicologa psicoterapeuta in pronto soccorso e sono una figura dedicata proprio al tema della violenza su donne in particolare e minori. Noi appunto come pronto soccorso come ha detto prima il dottor Moscatelli ci occupiamo della fascia 14-18 per quanto riguarda i minori e poi gli adulti. Io sono in pronto soccorso da quasi 4 anni e grazie appunto alla mia figura abbiamo postuto dedicare un progetto esclusivamente a questo tema. È nato quindi il progetto Ginestra così l'abbiamo chiamato che ha dato vita poi a inizio 2012 a un vero e proprio protocollo sulla accoglienza e la cura delle vittime di violenza domestica, bullismo e mobbing. Quindi ci occupiamo di tutta quella violenza che avviene negli ambienti familiari, quotidiani delle persone perpetrata nel tempo e che ha una forte valenza psicologica convinti che l'aspetto fisico, l'episodio fisico è solo un aspetto infatti della violenza che è soprattutto relazionale. Il pronto soccorso è assolutamente un osservatorio privilegiato per cogliere situazioni invisibili, situazioni di rischio che potrebbero portare appunto alla cronicizzazione di situazioni relazionali fortemente traumatizzanti per le persone e che sappiamo bene che a breve, medio e lungo termine hanno effetti potenti, negativi sulla salute delle vittime. Noi ci occupiamo appunto in particolare di donne ma nell'accogliere, nel poter aiutare donne vittime di violenza sappiamo bene che andiamo a incidere anche sui minori perché la violenza assistita al pari di qualsiasi altro maltrattamento e violenza su un minore appunto ha effetti sullo sviluppo cognitivo, relazionale, emotivo, sulla regolazione degli affetti del piccolo che assiste a maltrattamenti di qualsiasi tipo fisico, psicologico su figure di riferimento. Il punto a punto centrale è il pronto soccorso può cogliere delle situazioni persone che arrivano quasi sempre per un aspetto fisico ma appunto come detto prima l'aspetto fisico in realtà molte volte è minore lo possiamo vedere anche dai giorni di prognosi che spesso sono veramente molto bassi. la decisione di togliersi da una situazione di violenza per una donna è un processo estremamente lungo non consiste in un momento decisionale in cui la persona dice basta sì in realtà avviene questo però c'è tutto un processo all'interno della persona di acquisizione di consapevolezza e della possibilità di chiedere aiuto agli altri per cui la persona viene spesso anche solo per uno strattonamento e da lì se trova delle persone che la riconoscono allora diciamo che trova anche la forza di poter essere aiutata se trova un medico che la cura da un aspetto fisico e la rimanda in una situazione appunto relazionale drammatica e assolutamente pericolosa per la propria salute psicofisica e delle persone che accanto difficilmente riuscirà a richiedere aiuto è un tagliarle le gambe veramente in un momento in cui la persona riesce a buttare lì qualche cosa a farsi vedere l'aspetto centrale è proprio quello di poter essere vista e quello che noi cerchiamo di fare è con un'equipe multidisciplinare di vederla vederla ognuno con la propria competenza ma curando bene l'interconnessione tra le professionalità noi abbiamo appunto preparato un protocollo grazie a un'equipe multidisciplinare medico la mia figura psicologa e infermieristica che è stato approvato poi dalla direzione ed è attualmente pienamente in atto su queste tematiche di questi questi tipi di violenza con un percorso molto definito dal momento in cui la persona entra in pronto soccorso al triage a quando arriva a me e quindi alla rete territoriale perché grazie anche ai progetti che il comune sta portando avanti per la regione in modo veramente molto attivo noi pronto soccorso galliera come altri pronto soccorsi siamo entrati in questa rete territoriale molto forte molto attiva e che veramente non fa sentire soli ed è quello che vogliamo abbiamo voluto fare all'interno del pronto soccorso quindi l'infermiere di triage l'infermiere che prende in cura quella persona il medico lo psicologo sono tutti pezzetti di un puzzle ed è importante che ognuno svolga tranquillamente la propria professione non deve fare nient'altro di più ma che sia assolutamente in integrazione con gli altri in modo che la persona arrivi a una presa in carico più totale quindi abbiamo previsto appunto questa procedura per cui quando la persona arriva al triage cioè in ogni fase abbiamo delineato quelle che sono le ligue guida comportamentali che il professionista deve avere in ogni fase appunto della presa in carico le modalità appunto di integrazione sia per la violenza dichiarata sia per la violenza sospetta infatti nel protocollo ci sono delle tutte delle indicazioni e delle tabelle su quali sono i fattori che possono far pensare a una violenza sospetta in ambito appunto soprattutto familiare io appunto per qua dico brevemente quello che sono le mie funzioni e poi direi che posso chiudere le mie funzioni sono quelle appunto di nel momento in cui la persona mi viene mandata dall'infermiere o dal medico è quella di poter accoglierla dal punto appunto da tanti altri punti di vista come normalmente invece viene fatto appunto solo da un punto di vista fisico cercare di capire insieme la percezione che la persona di se stessa e quindi poterla veramente vedere riconoscere questa è la funzione principale cioè io ti vedo ti riconosco perché molte volte queste persone sono inserite in relazioni in cui sono funzione di qualcun altro sono puro oggetto invece la possibilità di dargli una dignità in quel momento è la cosa che permette di più creare le relazioni io ho bisogno di creare relazioni con queste persone a quel punto ho bisogno di capire qual è la situazione se ci sono coinvolti dei figli qual è la rete amicale parentale che intorno alla persona perché spesso sono completamente isolate e poi do dei rimandi alla persona su quello che sta vivendo e le possibilità reali di aiuto a quel punto c'è tutta una collaborazione con la rete territoriale nel senso di scrittura di una relazione in cui appunto spiego la situazione e dico tutto ciò che viene riferito con l'invio a centro antiviolenza distretti sociali ATS eccetera e nel momento in cui sono coinvolti dei figli anche una segnalazione sempre alla procura dei minori a quel punto la persona può uscire appunto comunque anche dall'ospedale con delle materiali scritte ben presente e importante che è il referto medico noi abbiamo curato molto come va fatto precisamente il referto perché molte volte i medici quasi non scrivono l'anamnesi o si perdono dei pezzi importanti e quindi come va fatto il referto la mia relazione scritta le segnalazioni ai servizi alle autorità giudiziarie e appuntamenti successivi con la persona per poter tenerla comunque agganciata mentre c'è l'invio io direi che qua posso chiudere ringrazio tutti ringrazio ancora il progetto Arianna grazie 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 a tutti